Tutti contenti no? Tutti contenti adesso di questo atteggiamento ci siamo capiti, non posso usare certi termini però ci siamo capiti, della UEFA questo atteggiamento molto democratico direi del governo inglese molto democratico, senza ovviamente ricattare nessuno, molto democratico voi siete contenti di questo? Bene, adesso voi che godete di questa situazione qua del fatto che la Superleg si è stata sospesa, adesso non si sa se è sospesa o annullata sospesa significa comunque rinviata, il problema è che come sono state bloccate le squadre inglesi adesso, sarebbero bloccate anche in futuro molto probabilmente a meno che qualcuno non aspetti, ma io credo veramente di no, non aspetti insomma la fine della stagione, la fine dell'Europeo, ma io credo di no perché se no non avrebbero neanche fatto questa cosa qui prima ma l'avrebbero fatta direttamente a fine stagione, questa ufficialità della Superlegio io credo che qualche testa salterà, nel senso che credo che Perez e Agnelli dovranno dimettersi, io non sono qua a dire Agnelli out perché per me Agnelli se non doveva andare per altri motivi e guardate io veramente non voglio far sì che passi il messaggio che la colpa sia esclusivamente di Andrea Agnelli e sia esclusivamente di Perez perché loro ci hanno provato, loro hanno provato a fare la differenza dell'Uefa senza ricattare nessuno, semplicemente mettendo non solo i soldi perché il discorso non era solo i soldi era proprio il format che piaceva della Superlegio e il format che non piaceva affatto della Super Champions perché quella porcata lì varrà come una porcata veramente però siete tutti contenti perché tutte partecipano, questa grande famiglia che sta diventando ormai la Champions League che sta sempre più diventando la mediocrità cup più che altro perché alla fine ci sono sempre poi alla fine di fatto vincono sempre le stesse quindi alla fine vincono sempre i più forti però uno che non è tifoso di queste squadre che giocano la Champions League inizia a guardare la Champions ai quarti adesso, figurarsi poi quando ci sarà quel bordello di 36 squadre e delle 10 partite sorteggiate ma a voi va bene così campionato, torneo che comunque sotterrerà i campionati perché comunque ci saranno molte più partite 100 partite in più e le squadre ovviamente metteranno praticamente le riserve in campionato e i titolari in Champions League quindi vi andrà bene così perché semplicemente il Napoli potrà qualificarsi, grande porcata no, la meritocrazia che si dice l'ho già detto no, meritocrazia per me non è meritocratico che una squadra che arriva a quarta da me ok a meno 20 faccia la mia stessa competizione lì Agnelli sbagliò quella volta che propose quella cosa delle prime quattro per me sbagliò alla grande ma forse lo fece proprio per far capire la mediocrità del nostro calcio cioè tutto lì e io sono dell'idea che ripeto la Champions debba essere la lega dei campioni quindi in Champions League deve andarci solo chi vince il campionato perché quelli che adesso protestano, si incazzano e dicono, cioè si incazzavano contro la Super League eh ma così si leva la meritocrazia e così alla fine vincono sempre Juve, Inter e Milan prendono il distacco, cosa che stavano già facendo per diversi motivi comunque alla fine dopo nove anni di dominio della Juventus chi è che vincerà lo squadetto? non vincerà lo squadetto il Napoli, non vincerà lo squadetto la Lazio, non vincerà lo squadetto la Roma ma lo vincerà l'Inter ok? l'Inter lo vincerà cari miei l'Inter, neanche l'Atalanta, la grande Atalanta l'Inter lo vincerà perché che ne vogliate o meno sono queste tre squadre che dominano in Italia da sempre quindi non era perché la Super Lega faceva sì che... no, no, perché dal 2002 ad oggi ha vinto sempre una di queste tre punto e chi è che ha portato a casa la Champions League? il Napoli l'ha portata a casa col grande Maradona non ha superato neanche i play-off il Napoli-Maradona la Roma ha perso una finale con Liverpool e la Sampdoria ha perso col Barcellona in una finale poi basta le altre che hanno fatto le finali forse la Fiorentina ne ha fatta una le altre che hanno fatto le finali quali sono? Juventus, Inter e Milan punto ok? che hanno fatto sì che la Serie A prendesse anche degli introiti gente che non ha fatto un cazzo in Serie A come De Laurentiis, come Lottito, come questa gente qui che veramente comanda il calcio italiano non hanno fatto un cazzo e hanno preso gli introiti grazie a tre squadre che si sono fatte il culo invece potete dire si sono indebitate sì, si sono indebitate ed è vero però hanno portato a casa in Serie A dei campioni che voi non avreste portato e hanno fatto sì che la Serie A rimanesse comunque tra l'elite europeo perché se aspettiamo il Napoli la Lazio, la Roma ciao campo a cavallo ok? questo è il discorso poi parliamo un attimo dei dei ricatti della politica inglese perché ce ne sono stati sicuramente non lo diranno mai ma ce ne sono stati ma sicuramente ma ragazzi poco ma sicuro ma qui il discorso poi dell'Uefa anche che minaccia le inglesi cioè fa minacce velate io adesso voglio capire ma se voi avete firmato un accordo un contratto che studiavate da cinque anni e non sapevate che poi sarebbe successo questo casino qua voi siete ipocriti siete ignoranti e siete poco credibili cioè io a voi non darei neanche un bar sotto casa mia ma non esiste cioè voi non sapete gestire allora poi i giocatori che si lamentano quelli dell'Iver io questi qua li prenderei adesso e direi ragazzi eravate contro Super League perché è il calcio del popolo perfetto il calcio del popolo ragazzi guardate mi dispiace ma da ora in poi siccome io sono d'accordo con voi il calcio del popolo vi pago duemila euro al mese farei così a questi grandi ipocriti del cazzo che hanno parlato nel calcio a Guardiola cazzo il calcio del popolo questo l'altro quell'altro tu prendi venti milioni di euro l'anno facciamo così ti pago duemila e cinquecento euro al mese va bene? il calcio del popolo Gosens Gosens tu che vuoi andare via dall'Atalanta e andare in una grande squadra bene ci vai io ti offro io Juventus ti vengo ad offrire 3000 euro al mese va benissimo il calcio del popolo questi grandi ipocriti il calcio del popolo poi la gente ripeto voi che adesso risultate per questo schifo perché questo è uno schifo questo è veramente uno schifo questo è veramente lasciamo stare ok e ripeto che era molto più meritocratica quella Super League che Champions League campionato dato che era gestito malissimo perché ripeto la quarta che arriva a meno 20 da me che sono primo non può fare non deve fare la mia stessa competizione e lì fu già un errore principale per i diritti televisivi per aumentare le partite adesso le stanno ancora di più aumentando con il discorso della Super Champions che forse partirà addirittura prima del 2024 adesso aumentando i ricavi adesso ma l'UEFA non lo fa per soldi ragazzi la UEFA non lo fa per soldi le vostre squadre del cazzo ok tipo Napoli Roma Lazio eccetera non si qualificano l'Atalanta stessa non si qualificano in Champions per soldi no si qualificano per vincere la Champions si si credete alle favole credete alle favole lo sapete benissimo pure voi che i soldi girano e circolano da sempre nel calcio sapete pure voi che questo calcio che il calcio non è morto con la proposta con l'ufficialità della Super League il calcio è morto molto prima per me il calcio per come lo conoscevo io è morto nel 2006 dopo che c'è stata quella farsa lì per me il calcio è morto lì punto ma se noi andiamo indietro i mondiali in Corea e Giappone quando eliminarono volutamente Spagna Italia per favorire il percorso alla Corea del Sud e li andava bene della FIFA vi siete lamentati ma avete fatto qualcosa avete fatto contestazioni no zitti zitti questo discorso poi come i tifosi cioè come se si avesse danneggiato qualcuno che avrebbe sicuramente invece portato introiti a tutte le singole federazioni ripeto adesso dopo questa cosa qui se fra qualche anno dovesse fallire una vostra squadra non chiedete appoggi da nessuno soprattutto da me perché lì io godrò dato che voi godete adesso io lì godrò ogni squadra fallita da ora in poi non avrò pena non avrò pena già dal 2006 avrei dovuto fare così infatti dal 2006 per me è solo i contro tutti però al diario questo da ora in poi qualsiasi squadra fallirà non avrò pena perché fallirà anche perché è saltata questa cosa qui perché questa cosa qui avrebbe portato dei fondi dei paracadute dei paracadute economici anche le medio piccole che vi avrebbero permesso di non fallire di non fallire ne avrebbe tratto vantaggio la serie A la serie B la serie C e anche altre squadre perché poi quando aumentano i soldi in una federazione aumentano per tutti ma ovviamente spiegarvi queste cose a voi vabbè comunque adesso godetevi no questo grande campionato questa grande Champions comunque si è visto queste 10 società da quello che si dice avrebbero 10 società avrebbero trattato 24 ore per 24 ore con la UEFA per avere dei guadagni maggiori ok quindi avrebbero voltato le spalle della Real Madrid e la Juventus se è il fatto che comunque Real Madrid e Juventus non sarebbero stati chiamati dall'UEFA perché Ciafferin vorrebbe le teste di Perez e Agnelli in tutto questo vorrebbe che saltassero loro due bene per me sicuramente però dovrebbero saltare tutti i presidenti di queste 12 squadre secondo me perché hanno fatto una figura poi a livello proprio economico a livello di immagine a livello di credibilità tutte le 12 società hanno fatto una figura di merda poi Agnelli Perez io ripeto rispetto a molti miei tifosi che sono contro Agnelli io stavolta non riesco ad andarci contro ha fatto una figura di merda ed è giusto si dimetta ma per altre cose questa è semplicemente la gozza ok poi se è nasi che se è nasi il nuovo presidente della Juventus ragazzi chiudiamo baracchi e burattini perché da quello che so di calcio ne sa ancora meno di Agnelli ed è ancora più prenditore di Agnelli quindi gestirà la Juventus come se fosse una grande impresa nella quale non contano proprio i risultati sportivi neanche in Italia contano di fatto quindi figurarsi vabbè lasciamo stare non c'è mani di merda che siamo vabbè e comunque abbiamo capito la credibilità di 10 società 10 società del cazzo 6 società inglesi del cazzo perché alla fine purtroppo io quando dico che con gli inglesi sarebbe meglio non fare affari quindi vabbè comunque questo è per quanto mi riguarda non è nessuno discorso di soldi comunque perché il discorso di soldi io l'ho tirato fuori quando voi avete iniziato a dire sì ma danneggia sto cazzo danneggia perché alla fine voi non vincete comunque lo squeletto non vincete comunque la Champions che cazzo rompete le balle comunque al dia di questo io ho sempre parlato del format perché il format della Super Champions a me fa letteralmente cagare e il format della Super League era molto molto più interessante in parallelo si poteva fare una Super League un'altra lega simile per squadre meno blasonate quindi come il Napoli come il Galatasaray si poteva fare anche la aumentando i ricavi perché quello era l'intento perché voi perché volevate partecipare a Super League tanto la Champions ci sarebbe cioè sarebbe rimasta perché volevate partecipare per un discorso economico allora che cazzo volete e per un discorso soprattutto perché avreste affrontato le grandi quelle grandi che adesso vi trattate perché a voi poco ragazzi c'è poco a fare a voi interessa l'avversario non interessa la vostra squadra interessa l'avversario se no questo polverone non l'avreste neanche fatto questo è il discorso perché voi volevate entrare nella Lega dei migliori ma i migliori lo siete lo siete mai stati punto perché ripeto la Super League era molto più meritocratica di quello che viene gestito qui in Italia qui in Italia vengono fatti i protocolli vengono trasgrediti e viene data la ragione praticamente ai due veramente che comandano il calcio no? alla fine lo prende in culo invece chi rispetta i protocolli e le regole in Europa non ne parliamo tra City e il City avevo qualche dubbio ho detto ma perché questi qua sono entrati nella Super League cioè sono fratelli gemelli di quelli del Paris Saint Germain infatti mai fidarsi mai fidarsi insomma l'ha il discorso del City vi ricordate anche il Paris Saint Germain con i soldi per Neymar presi da una terza società girati a Neymar che poi si è pagato il cartellino ma questi sono affari che che insomma sono giusti da fare no? sono giusti da fare tutti contro l'UEFA sia i Juventini sia anche gli anti-Juventini tutti contro l'UEFA e gli arbitri danneggiano gli italiani e quant'altro adesso grande UEFA contro la Super League poi venite ancora a piangere quando avrete errori arbitrali io vedete mi incazzo con gli errori arbitrali in Europa contro di noi però dico sempre che alla fine non vinciamo non l'abbiamo vinto per colpa nostra dalla prossima frega cazzi ok? se voi avrete errori arbitrali contro anzi godrò pure lì ok? la Roma compresa in Europa League spero che esca non me ne fregava un cazzo fino ad ora però sentendo anche i discorsi della Roma usciti ieri spero che esca spero che esca punto dall'Europa League e magari anche con errori arbitrali perché adesso me ne frega veramente il cazzo avete voluto la guerra la guerra la verete non me ne frega perché poi in Italia in Italia sicuramente ci danneggeranno perché da ora in poi ragazzi io non ho mai pensato chi mi segue sa benissimo non mi sono mai attaccato a cosa? alla malafede non mi sono mai attaccato alla malafede ma adesso in Italia in Europa quando ci saranno i arbitrali contro a Juventus alla malafede ci penserò sicuramente perché? perché ce la faranno cagare cara cagare cara non pagare cagare cara questa cosa qui vedrete ok? questo è il problema l'unica responsabilità che do a Perez e a Danielli è che si sono fidati delle persone sbagliate e questa cosa io non capisco cazzo è cinque anni che ci lavorate io rimango dell'idea e di un'idea la Super League prima o poi che piazza o non piazza si farà magari quando le squadre avranno più potere dell'UEFA avranno più spalle coperte rispetto ad ora si farà secondo me però a di là di questo lo schifo rimane lo schifo rimane e niente io lo sono schifato da questa cosa qui sinceramente perché vabbè comunque si è capito di chi ci si può fidare di chi no praticamente ci si può fidare solo di se stessi punto perché alla fine basta alzare un po' il discorso economico e la gente ti volta le spalle perché ripeto non era solo un discorso economico quello proposto a Perez e Danielli era un discorso anche di format e di interesse perché tu aumenti le partite diminuisci comunque la competitività diminuisci la bellezza di una competizione questo discorso questo discorso non vale per il campionato perché il campionato è giusto che ci siano tutte le squadre ma per una lega dei campioni per una coppa dei campioni devono giocare i migliori punto devono giocare i migliori poi l'UEFA ha preso per il culo per dieci anni col fair play finanziario danneggiando le italiane e basta quando trasquedevano un minimo e c'è gente che ha fatto intrecci schifosi però voi difendete questo schifo qua che ve l'hanno messo nel culo pure a voi parlo di Milan Inter e se non sbaglio anche la Roma poi grazie al cazzo che ci sono società che hanno i conti a posto in Italia non hanno mai investito un cazzo però alla fine ripeto in un anno del genere quelli che vanno a pagare a penare di più sono quelli che hanno fatto investimenti grossi investimenti grossi che hanno portato vantaggi anche al vostro campionato del cazzo ok anche a voi indirettamente perché la gente poi veniva allo stadio voi alzavate i prezzi porca di quella troia perché veniva a giocare Ronaldo nei vostri stadi di merda voi alzavate i prezzi per questo allora lamentatevi anche contro le vostre società di merda che alzavate i prezzi perché arrivava Ronaldo che vi ha portato più vantaggio a voi che a noi vaffanculo ma resti qua rimpivate lo stadio quando arrivava la Juventus che cazzo volete però ripeto se a voi va bene così vedremo poi fra qualche anno ce la racconteremo per me molti si pentiranno che per ora per ora speriamo solo per ora la Super League si è saltata per me fra qualche anno molti si pentiranno in questa cosa perché molti diranno probabilmente si avrebbero vantaggiato magari Juventus in 3.000 però ci sarebbero stati ricavi anche per tutta la federazione anche per noi probabilmente con quei soldi non saremo falliti fra qualche anno sto cazzo ok fra qualche anno sto cazzo adesso vedremo se anticiperanno sta merda di Champions League che non è più Champions League per me proprio un torneo cioè il torneo della parrocchia qua che si fa in Sagra in Agosto vale molto di più di quella competizione chiamata Champions League dal 2024 perché già per me questa era simile Champions League la vera Coppa di Campioni o Champions League era quella degli anni 90 nella quale partecipava solo chi vinceva però lì e qualora ci fosse stata quella regola i neapoletani si sarebbero lamentati perché non avrebbero mai vinto lo scudetto e non avrebbero potuto mai partecipare alla Champions perché la verità è che in un modo o nell'altro ovviamente con continuità deve esserci la storia di una squadra conta tutto lì perché alla fine bene o male quando arriva il momento clou sono convinto che quando arriverà il momento clou il Milan sarà forte e arriverà in finale la Champions il Milan la vincerà a differenza nostra perché la storia conta la mentalità conta la mentalità o ce l'hai o non ce l'hai la potresti acquisire certo però se hai voglia di cambiare perché non puoi pensare di ottenere un qualcosa di diverso se ti comporti sempre nella stessa maniera ok buongiorno a tutti sempre e comunque fino alla fine di Forza di Juventus sempre soli contro tutti non me ne frega un cazzo Agnelli qua ha sbagliato ed è giusto che si dimetta ok come Perez del Madrid abbiamo visto di chi ci si può fidare di chi no di nessuno praticamente abbiamo visto cos'è l'UEFA cos'è e cos'ha fatto il governo inglese bene e abbiamo visto quanto nel calcio la politica purtroppo conti quando dite ai tifosi la politica è fuori dagli stadi perché fanno diciamo dei cori pro o contro qualche politico sappiate che il calcio purtroppo e questo è proprio l'evidenza è politica buona giornata a tutti grazie a tutti